ciao a tutte allora dopo molte richieste ho deciso di realizzare un video tutorial per la realizzazione della collana questa qui col cordino cerato per in legno perle in lava e poi insomma anche eventualmente ci possono star bene anche delle perle in resina o perle in vetro in quel caso lì non troppe perle perché la collana diventerebbe molto pesante in questo caso qui la collana è abbastanza lunga ho utilizzato sei fili dipende poi quanto la volete realizzare lunga in modo che potete utilizzarla sia come collana doppio giro collo come singola collana oppure anche come cintura e ad esempio questa qui la utilizzo sia come collana che come cintura adesso andiamo a realizzare un altro modello ovvero modellino più corto ovviamente il la realizzazione è identica soltanto che metteremo magari una chiusura alla termine invece di lasciare il cordino così lungo in questo caso qui l'ho lasciato così lungo che sarà circa 25 centimetri proprio perché nel caso in cui la voglia utilizzare come cintura rimane un effetto tipo nappa andiamo a vedere allora intanto preso sei fili in questo caso li sto utilizzando più corti però dopo ovviamente se volete acquistare il kit che è disponibile potete saremo felici di consigliarvi sulla sulla giusta lunghezza della collana non non faccio non lascio in questo caso il filo molto lungo come invece in questa qui che ho già realizzato proprio perché appunto andrò a mettere una chiusura farò un giro collo quindi sei fili li dividerò a due a due da ogni filo è una collana che non servono di realizzare non servono attrezzi quindi un nodo un classico nodo inserisco a non ho detto che cosa utilizzo per come perle le stelline di lava delle perle più grandi che mi serviranno come da intervallare la mia collana delle perle di resina sui toni del marrone e del verde oliva delle perline di lava più piccole sugli stessi toni delle stelle e delle perline di legno allora utilizzando i fiori due a due prendo un filo in un solo filo andrò ad inserire la mia perlina e poi subito dopo richiudo con un altro nodo semplice è un progetto molto semplice da fare da realizzare e si può realizzare anche in spiaggia in vacanza insomma un kit che non ha tante pretese di trasporto ecco qua posso già inserire una stella anche per per qualsiasi perla che inserisco inserisco sempre all'interno un corso soltanto un cordino l'altro viene racchiuso dietro e poi nodo tra una per l'altra lascio circa 2 3 centimetri e continuo così intervallo poi un po il i colori ecco dopo dipende un po dai colori che utilizzo è comunque molto bella realizzata in un po in tutti i colori perché dopo vi farò vedere anche un modello realizzato con il rosa perché anche comunque veloce ok allora dopo che ho realizzato questo vado a realizzare in modo simile prendo gli altri due fili questo lo metto un attimo da parte prendo gli altri due fili e lo vado a realizzare in modo molto simile partendo però intervallando le perle quindi non metterò la stessa la stessa perla di legno ma in questo caso la metto verde ecco perché poi andremo a fare un ulteriore lavorazione con cui sono sono partita da subito quindi anche le perle non mettetele tutte la stessa altezza in modo che sia più bello l'effetto sfalsato e procedo così facendo un altro filo lavorando l'altro figlio gli altri due fili e anche gli ultimi due per la stessa lunghezza eccoci qua una volta che abbiamo realizzato tutti i tre fili più o meno la stessa lunghezza va andiamo ad unirli maggiormente realizzando una treccia quindi proprio una classica treccia ok vedete che i fili sono molto più uniti tra loro a questo punto andiamo a fare un nodo con tutti e sei i fili e andiamo ad inserire la perla questa acqua più grande in legno queste qui hanno il foro abbastanza grande in modo che riusciamo ad inserire tutti i fili e andiamo a fare un altro nodo considerate che i nodi portano via molto spazio cioè molto filo molto cordino quindi se a volte le misure che vi diciamo sembrano troppo lunghe è meglio che rimanga un po di cordino piuttosto che venga troppo corta la collana perché in quel caso lì non riuscite poi ovviamente ad allungare il filo ci tenevo a dire questa cosa perché quando proponiamo 15 18 metri di cordino sembrano veramente lunghi però ovviamente poi diviso 6 però potrebbero servire tutti procedo nello stesso modo a realizzare un altro pezzetto così sarà una collana giro collo quindi diciamo che la metà l'abbiamo già fatta andrò a realizzare l'altra metà però vedete ho soltanto la metà del filo di quello che utilizzato ok anche in questo caso ho realizzato ho realizzato la stessa lavorazione i tre fili e ho realizzato la treccia e vado a chiudere con un unico nodo guardiamo a vedere come metterla chiusura allora per chiuderla collana possiamo optare per vari tipi di chiusure la coppettina in questo caso il nodo verrà praticamente incollato all'interno della coppetta io preferisco molto di più le conchigliette perché appunto hanno anche una funzione di chiusura quindi di pressione sul nodo dato che mi piace lasciare anche un nodo vista ne andrò a realizzare un altro magari io ho pensato ora come chiuderlo però calcolate che se la dovete chiudere appunto vi serve un ulteriore nodo di lasciare un pochino più di filo andiamo a tagliare questo in eccesso questo cordino qui è cordino cerato quindi non è sintetico le coppette si presentano così senza asola quindi andiamo a fargliela noi come inserendo un chiodino dalla punta piatta inseriamo il chiodino tagliamo un centimetro circa e andiamo a creare noi l'asola prima di chiudere mettiamo il moschettone comunque questa cosa qui verrà ben spiegata nel video la trovate nel video di bigiotteria base stessa cosa faccio con l'altra metto direttamente l'anello così faccio un lavoro in meno dopo ok e ora vado a chiudere eventualmente posso anche mettere un goccino di colla da bigiotteria o colla caldo così colla più il comunque la stretta del della conchiglietta ci permetterà di avere una chiusura molto più resistente stessa cosa vado a fare dall'altra parte fuori un filo ma fa niente la nostra collara è pronta questa è la versione con la chiusura quindi versione giro collo l'altra l'altro modello realizzati invece è in versione cintura e questo invece è realizzato nel colore del rosa quindi sui toni dell'arancio rossi giallo verde ottaneo e marrone rosa fucsia vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao